Buona giornata. Dio non produce scarti. Ognuno di noi non è uno scarto, ognuno di noi non è un vuoto a perdere, ma Dio ci ha creati bene, ognuno con la nostra dignità. Anche nelle scelte che possiamo aver compiuto, anche quelle scelte sbagliate, quelle ferite che ci portiamo dietro, a volte ci fanno pensare e ci fanno dire sono sbagliato, a volte ci fanno pensare e ci fanno dire sono uno scarto, sono così, a volte sentendolo dire spesso da altri prendiamo noi la convinzione di esserlo. No, Dio non produce scarti, ognuno ha la sua dignità, la sua dignità di uomo, la sua dignità di donna per quello che è e per quello che fa. Allora che questa frase possa risuonare in questa giornata, ma rispondere attraverso ciò che siamo e tutti noi abbiamo il bene da compiere in qualsiasi parte o situazione ci troviamo. Che il Signore ti benedica e buone decisioni attraverso questo bene come risposta grande a te Signore. Buona giornata.